Hello! Ehi là, ciao! Ciao! Come va? Sei troppo felice? Io vedo la sua faccia. Io sono troppo felice! È felice perché, vabbè, intanto questo è zitto e guarda... E quindi siamo felici. Esatto, è il podcast dove ci obblighiamo a guardare film l'un l'altra. Ma oggi è un episodio specialissimo perché è... È Summer Win! Summer Win. Perché in questa città amiamo così tanto Halloween che lo festeggiamo due volte l'anno. E guarda caso, è proprio oggi! Esatto, lo facciamo diventare oggi. Sì. Allora, no, spieghiamo un po' cos'è Summer Win per chi non lo sapesse. Allora, Gravity Falls, una serie tv... Anzi, non so se chiamarla serie tv, una serie tv... Sì, è una serie tv a cartone animati. Ok. Che io e Jacopo apprezziamo parecchio. Gravity Falls ha battezzato questa cosa del... del Summer Win. Che dovrebbe essere il 22 giugno. Noi non lo festeggeremo il 22 giugno. Non lo sappiamo, non credo. Però, vabbè, è estate. Come se, come se. Esatto, come se. Quindi è estate e basta, va bene così. E ogni scusa è buona per trovare un altro film spooky da vedere. Esatto. O da far vederlo l'uno all'altro. Ma tra l'altro, sai che questa cosa... Cioè, allora... No, che... Cioè, noi assolutamente abbiamo preceduto i tempi, non so come si dice, proprio trendsetters, perché da quest'anno ho visto che questa cosa di Summer Win sta diventando tipo super virale su TikTok. Ah, sì? Sì! Cioè, tutti che stanno dicendo, ah, l'estate slasher... Slayer, no, come si dice? Slayer è... Slayer, no. Slasher è quella dei film horror, quindi sì. Esatto. Era giusto slasher. Slayer. Che poi molti serial killer dei film siano Slayer. Slayer. È un discorso a parte che affronteremo. Però sì, ah, trendsetter, wow. Noi bravissimi. Io giuro, incredibile. Cioè, allora, io non per vantarmi, però basta che andate sul mio canale e vedete da mo' che vi parlo dei Summer Win, quindi, insomma... Io no, ma apprezzo i film horror in generale, ho i film spooky. Un po' meno perché ho paura, però cerco di superarle. No, ci sta, io odio i film horror, you know. Io li adoro, ma ho paura, ho tanta paura. Ho sempre bisogno di compagnia. Nell'ultimo periodo ne ho visti diversi, dai, mi sono un po' sbloccata. Però meglio dei film horror, per me solo i film spooky, quindi... Esatto, quelli sono i miei preferiti, soprattutto quelli un po' per bambini. Quindi oggi cosa faremo? Ci costringeremo l'un l'altro a vedere un film spooky. Per la prima volta in contemporanea. Esatto, quindi avrete un episodio che probabilmente durerà 50 ore. Esatto, sarà un casino perché ci parleremo sopra, noi non avremo una scaletta, è stato fatto tutto molto... A cazzo. Di cane. Come se per le altre volte avessimo una scaletta, Jacopo. Altre volte almeno c'era un film solo, a nostro livello di attenzione poteva essere concentrato. In modo, eh, questa volta no, completamente tolle. Ok, quindi... Da dove iniziamo? Eh, non lo so, dimmi tu. Vogliamo già iniziare da te così spoileriamo che sarai tu il primo della prossima stagione? Ok, io inizio... Vai. Inizio sempre con i miei preamboli. Questo film l'ho letteralmente visto nel mio più vecchio summer wind della mia vita, perché avevo tipo, boh, 12 anni. Vabbè, sembra che io racconti sempre la stessa storia in questo podcast, però ero a casa dei nonni, guardavo la tv in montagna in casa di mia nonna e usciva questo film. Una volta per vedere film nuovi, questo dovevi fa, cioè non è che... Sto male. Se c'è una cosa che abbiamo imparato da questo podcast è che Jacopo guardava la tv a casa dei nonni. Questa è un'altra nonna, però. Una certezza, bro. Esatto, questa volta è l'altra nonna, però. E quindi metto questo film e ci ho ripensato l'altro giorno e dice, wow, è proprio tema summer wind, perché era un film super spooky, che ho visto d'estate e non aveva nessun senso che fosse in estate quel film per il palinsesto, però ce lo teniamo. Voglio partire da una domanda per te. Oddio. Che è una specie di quiz. Oh, non so se sono pronta, vai. Non credo, perché anche io lo trovo difficile. Ma se ti dovessi chiedere un altro film in cui hai recitato Michael J. Fox che non sia Ritorno al Futuro. I don't know. Vero che è difficile, è difficile. Dopo oggi potrei rispondere a questa domanda. Ah, incredibile. Wow. Wow. E infatti l'unica cosa che voglio dire di questo film è che c'è Michael J. Fox e dei fantasmi. Nient'altro. Michael J. Fox e dei fantasmi. Allora sono sicura di non averlo mai visto. Esatto. Cioè, proprio sono certa. Cioè, era impossibile. È vero, ma... Non conosco nessuno che l'abbia visto questo film. Cioè, di persona. Nessuno mi ha mai detto, eh, una volta ho visto... No, proprio... No. Morto e sepolto. Quindi, niente, questo è il mood, però. Voglio sentire prima il tuo, perché voglio vedere cosa gli accomuna. Ok, ok. Io in realtà però volevo... Allora, mi sarebbe piaciuto fartelo indovinare. Però, secondo me, non l'hai mai visto. Però è incredibile perché... Io sono troppo felice di farti vedere questo film, perché è una perfetta chiusura di questa prima stagione. Perché al suo interno racchiude altri film che abbiamo guardato. Oh, wow. E infatti i miei indizi per farti indovinare questo film erano Speed e Bewitched. What? Yes. Speed e Bewitched? Oh, yes. Oh, mamma. Quindi c'è... C'è Keanu Reeves? No. Purtroppo no. Non c'è Keanu Reeves. Allora c'è Sandra Bullock. Quindi c'è Sandra Bullock. Ma io Sandra Bullock in un film spooky? No, non penso di averlo... Oh, oh, oh. Visto. A meno che non sia quello... Orendo che ho visto in aereo una volta dove lei vede il futuro. No, non è il tuo genere. No, 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 non è questo. E allora, non lo so, Speed e... Bewitched. Bewitched. Ci sono le streghe, quindi... Però non... Non so, no, non lo so davvero. Non lo so. Ok, quindi non l'hai indovinato. No. Al mio tre diciamo il titolo. Ah, di tutti e due. Vai. Oh, wow. Aspetta che me lo devo ricordare. Lo vuoi in italiano e in inglese? Io lo faccio in italiano perché in inglese non so pronunciarlo. Ok. Uno, due, tre. Amori incantesimi. Sospesi nel tempo. What? Sospesi nel tempo. What? Amori incantesimi. Nessuno sa di cosa parli. È bellissimo. Non c'è nessuna... Non c'è nessun filo narrativo. Allora, Sospesi nel tempo mi dice qualcosa, ma io sono sicura di non aver visto questo film. No, perché è un titolo in italiano che come al solito non c'entra niente con quello in inglese. Ok. L'inglese sarebbe The Frighteners, che sarebbero gli spaventatori. Ah, buono. Quindi sì, come te lo descrivo? Immagina Michael J. Fox che fa il contrario della chiappa fantasmi. Quindi che libera i fantasmi? Ne, ne, no, proprio non disinfesta, cioè... Non disinfesta. Disinfesta. Vorrei che tu lo vedessi, però... Ok. Posso dirti che è un film del 96, è un film di Peter Jackson. Wow, madonna. Tra l'altro, infatti... Incredibile. Si vede, perché... C'è del mood. No, allora, è un film fatto da... Per lo studio, probabilmente. Peter Jackson lo voleva fare, ma non così tanto. E infatti è l'ultimo film che ha fatto prima del Signore degli Anelli, per, se vogliamo, dare un contesto. Oh, madonna. Ed è uno di quei film che, secondo me, aveva bisogno di stare, tipo, qualche altro anno nel forno, prima di venire fuori così. Ma c'è un motivo per cui è venuto fuori così. A me piace molto. Ha degli effetti speciali super datati in certi punti e altri invece bellissimi. Ed è ambientato in una cittadina dove tutto è bagnato, tutto è nuvoloso e sono tutti presi male, tranne forse un... Una persona. Quindi, e niente, questo è... Wow, figo. Amore incantesimi. Amore incantesimi. Allora, questo è il titolo in italiano. In inglese si chiama Practical Magic. È un film del 98. Io adoro che siamo tornati negli anni 90. Così. Such a cliché. Si torna indietro. Esatto. E volevamo la gente sudata, per esempio. Esatto. Ed è tratto da un libro. Per curiosità sono andata un po' a cercare review del libro e tutti dicono questo è uno di quei rari casi in cui il film è più bello. Attenzione. Quindi, attenzione. Allora, io non voglio dirti troppo, però, dato che ti ho dato questi indizi all'inizio, le nostre protagoniste sono Sandra Bullock e Nicole Kidman. Oh, wow. Che sono delle streghe. Ah, di nuovo, così? Yes. Quindi è un prequel spirituale di... Di bewitched, se lo chiamo. Volendo, sì. Ah, wow. Tra l'altro, è molto... Secondo me ci sta molto per Summer Wind, perché è ambientato tutto in quest'isola. Il mood è molto estivo. Non so se darti allora le cose da trovare, però prima me le dai tu. Ok, no, io finisco solo dicendo che il mio film è sì, un po' sovranaturale, però, rivedendolo adesso, l'ho trovato molto più attuale in un certo senso. Cioè, anche, non attuale, però anche lì, avanti coi tempi, perché è metà paranormale, metà molto true crime. Oh. Di gente che parla di cose da diversi punti di vista e... è tutto molto leggero comunque. Vedrai che è super... Super, non per bambini, ma film da vedere che in compagnia, quelle robe lì, tranquille. Beh, su questo devo dire anche il mio. Non è per bambini, assolutamente, però comunque, insomma, molto leggero, sì. Però sì, ecco, la cosa che mi piaceva anche di questo film è che quando l'ho visto ero, appunto, a casa di mia nonna vicino a Trento e il setting è molto simile a Trento per me, cioè, quindi... Davvero? Pinete, alberi alti, pioggia costante, insomma, tra le colline, no, quella mi ricordava. Però parliamo degli indizi da trovare. Vai, me li senti. Allora, sono molto a caso, però abbiamo Elvis, abbiamo Full Metal Jacket, e poi Corpetto di Ferro. In che senso? Vedrai. Corpetto di Ferro. E poi c'è l'ultimo che non è un indizio, ma voglio che tu lo veda comunque, perché c'è un momento in cui un personaggio dice di avere 29 anni, e io ho detto, oh mio Dio, oh mio Dio, sono così, perché ho sudato freddo, ho detto, ma questo è un... è defunto. Questo uomo ha 70 anni? Esatto, non può avere 29 anni. Vabbè, ma, cioè, allora, possiamo dire, siamo... rispetto agli anni 90, le persone della nostra età sembrano molto più giovani. Cioè, non so se sembriamo o lo siamo, effettivamente. Però ha fatto strano lo stesso. No, certo, capisco. E quindi c'è questo. Quindi avere 29 anni, mi segno. Sì, è proprio una gag, ma nel film non vuole essere così divertente. È quello il problema. Ok. Va bene, aspetta che tocca a me segnare il tuo posto. Amore incantesimi, e in inglese com'è? Practical magic. Incantesimi. Dimmi tutto, sono pronto. Allora, la prima è Rizzo di Gris. Wow. La seconda... Edward Mani di forbice. Eh, madonna. Poi abbiamo Edward Cullen. Già, il fattore Edward è salito alle stelle in due secondi. Sì. Seguito da l'esorcista. E poi qua, allora, sono due cose che vorrei mettere insieme, perché non sono tanto cose che devi trovare, perché tanto le vedrai. Però è proprio una cosa della serie. Queste due scene a me fanno molto ridere, quindi io te le voglio sottolineare. Quando ci arriverei poi capirai. La prima è Panna Montata e la seconda è Margarita. Ok. Ok. E poi, c'è un'ultima cosa che però non ti voglio dare neanche l'indizio, perché voglio proprio che sia una mega sorpresa. Sappi solo che ad un certo punto in questo film ci sarà una cosa. Ok. Che tu vedrai e io so che ti farà ridere. Ma anche pensare. Ma anche riflettere, no, non lo so. Però sicuramente ti farà ridere e volendo sarà una città ad un altro nostro episodio. Ok, ok. Quindi metto TBD, da capire. Esatto. Va bene, che casino, però... Sì, è un bordello. Oggi veramente, raga, l'episodio è di cinque ore. Ci piace così, ci piace così. Sì. E niente, vado a vedere Amore Incantesmi. E io vado a vedere... Aspetta, come sei? Com'è che si chiamava? Non ce lo sei scritto? No, infatti, aspetta, ridimmalo. Sono spesi nel tempo. Sono spesi nel tempo. Questa mancanza di rispetto, comunque. Hai ragione. Verso Peter Jackson prima che me, che salutiamo. Ciao Peter. Mi dispiace Peter. Sorry. Allora ci vediamo dopo. Ciao ciao. Ciao. Allora, continuo la tradizione di tutti i film che vi consigli, dove nei primi minuti qualcuno viene accoppato male. La vecchietta che spara al tappeto fantasma, posso dire, bellissimo. Ho trovato Elvis. He's alive. Eccola, Full Metal Jam. Madonna, sto male. Con i pugni. Sì, i pugni, ciao. Con i guantoni. I guantoni da... Da cosa? No, vabbè, sto malissimo. Posso dire lei che riesce a parlare con il tipo morto. È la prima cosa che chiede dove sono i miei soldi. Sono sinceramente preoccupata per la salute fisica e mentale della gente dell'FBI. Perché, poverina, sta impazzendo. No, ha perso... No, non può più parlare con i suoi amici. Che triste. Oh, gli amici in paradiso. Che cosa cute. Ma è... Ma è Tremors. È Tremors. Sto male. Questo è il primo film dove la scena dell'impiccagione ha una musica allegra. Bellissimo. Mi piace perché sembra tipo l'inizio di piccole donne, ma con le streghe. Carino. Comunque questo Luke Danes dei poveri che passa in mezzo alla cittadina, grandissimo. Spero sia un personaggio principale. Ma questi cambi di tono dal film super romantico a 50 sfumatori di grigio di altri tempi. Cosa... Cosa sto guardando? Ma no, ma che tragedia. Ma no. Ma poverino. Intristito. Ma è terribile tutto quanto. Cioè, poverino. Anche le zie le odio. Come fa? Ma non potuto. Mi piace che sono i primi 20 minuti di film e da 10 si andrà volo che sotto le coperte. E ve lì. La capisco. Ma all'arizzo di Grease è una delle zie. Quella con i capelli neri. Sono pazzo. Vado via. Guardate le bambine. Mi raccomando, non fatele danzare nude sotto la luna piena. Lo diceva sempre anche mia mamma. Ma anche in questo film c'è Elvis. Lo ascoltano alla radio. Vedi che sono uguali i nostri film. Siamo troppo in sync, bro. No, lo fanno diventare immortale. No, sceme. No. Nicole. Sandra. Non si fa. La panna montata di Satana. Che bello. Io sto morendo. L'hanno ammazzato due volte. È bellissimo. Ma poi c'è, non mi hai detto una cosa fondamentale. che una delle tizie del negozio di Sandra Bullock è character actress Marco Martindale. Ovvero la nonna di Miley Cyrus in Anna Montana. Cioè, te la devo dire io ste cose. Dai. Ok, d'ora in poi, questo che viene fatto vedere nel film è l'unico modo accettabile per preparare un margarita per berlo. Lo berrei anch'io che odio l'alcol. Fantastico. L'esorcista. No, che paura. Sally just came out. Oh mio Dio. Oh mio Dio, è bellissimo. Che capolavoro. Sto, volo. Aiuto. Fantastico. Non voglio neanche andare avanti. Per me va bene così. Ciao a tutti. Bentornati. Questa puntata ha difficoltà tecniche fuori dalla registrazione. Aiuto. Bentornati. Allora, sì, oggi tante difficoltà. Sì. Allora, di base difficoltà perché abbiamo registrato la prima parte due settimane fa. È già questo. Siamo più vecchi tutti. Sì, siamo più vecchi. È già questo. È stato un grosso problema. Io ho dovuto fare un ripasso perché figurati se mi ricordo qualcosa. A me non partiva niente. Esatto. Jacopo ha avuto il computer che è sedato. Ha detto ciao, vi saluto. Stiamo pregando che funzioni e tutto quanto. Però bentornati. Bentornati. Abbiamo visto due films contemporaneamente. Sarà un casino. Sì, ma vuoi sapere una cosa divertente? Sempre. È che noi adesso stiamo registrando e oggi è effettivamente Summer Win. Oh no, eh vabbè. Faremo finta. Però arriviamo giusti giusti perché tipo mancano due episodi. Ma sì, ma chi se ne frega. Però è bello che noi stiamo registrando nel giorno. Ok, sì, ha senso. Per festeggiare. Quindi nello sbaglio prendiamo va benissimo. Quindi io ho visto Practical Magic detto Amore Incantesimi e tu hai visto... E io ho visto Sospesi Nel Tempo che invece in inglese mi sembra The Frightening... The Frighteners, sì. Non lo so pronunciarlo neanch'io. Allora, io parto subito dicendo che la cosa che mi ha impressionato di più è che questi due film hanno un sacco di cose in comune in realtà. È vero. Non c'entrano niente l'uno con l'altro, però... È vero. Hanno un sacco di cose in comune, quindi... Ci siamo letti nel pensiero, siamo collegati. Summerway fa queste magie, a quanto pare. Quindi partiamo da Sospesi Nel Tempo. Esatto. Fai la tua parte preferita che è spiegare la trama ai nostri amici. Io non ci riesco. Allora... Abbiamo fatto letteralmente le prove prima di questa parte, perché non... Sì, perché... Il dono della sintesi... Non è qui. No. Cioè, non c'è il dono della sintesi e non c'è neanche... Io ho sempre provato di dimenticarmi dei dettagli fondamentali, perché magari ti dico una cosa che, cioè, che io mi ricordo e che mi ha fatto ridere, che però non è importante per la trama, no? Tipo, no, perché poi succede sta cosa. Sì, ok, però il film non parla di questo. Allora, invece convincerai tutti da vedere questo bellissimo film. Allora, sospesi nel tempo. Di cosa parla questo film? Siamo in questo paesino degli Stati Uniti dove stanno morendo un sacco di persone. Giusto. E già questo fa un attimo capire il vibe. Abbiamo poi Michael J. Fox. Ovviamente non mi ricordo il nome nel film del tuo personaggio. In questo momento neanche io, però... Michael J. Fox. Lo chiameremo Michael J. Fox. Lui ha questo potere particolare, cioè riesce ad avere dei contatti con i fantasmi. Quindi lui riesce a vedere i fantasmi e utilizza questo suo potere, questa sua sensibilità per far su dei soldi. Perché poverino è in una situazione un po' particolare della vita in cui vive in sta casa che è mezza distrutta, ha un sacco di problemi. scopriremo poi che questi problemi li ha perché appunto ha perso la moglie, devasto, situazione tragicissima. Però, insomma, nel momento in cui il film inizia lui appunto è così, cerca di far su dei soldi facendo la chiappa fantasmi. Ma praticamente truffa le persone. Perché? Perché lui, appunto, avendo questo dono, è riuscito a fare amicizia con due fantasmi in particolare e praticamente, anzi tre, però diciamo che sono due quelli principali. E quindi lì, insomma, lavorano tutti insieme per far sì che questi fantasmi i suoi amici vadano ad infestare le case. E poi lui arriva e dice ah ah, so io come aiutarvi perché sono una chiappa fantasmi e poi in realtà semplicemente si mette d'accordo con i suoi amici fantasmi che poi sloggiano e lui si fa pagare. Ma se stai andando da Dio comunque, volevo dire. Hai visto? Ho studiata! Madonna! Aspetta, adesso casco perché poi adesso arrivano le cose importanti. Quindi, cosa succede? Ennesimo infestazione, non so come dire, di una casa. Lui arriva per sistemare il tutto però c'è qualcosa che non va e infatti la persona che l'aveva assoldato, se dice così, sì. Assunto. Assunto, sì. Per fare il lavoro crepa male un po' come stanno crepando male tutti quelli del paesello perché cosa succede? Sembra che abbiano tipo degli infarti e poi si ritrovano dei numeri stampati sulla testa. Adesso lo sto raccontando perché se noi facciamo tutto la sinossi però questo è il su. C'è questo mistero della gente che muore e Michael J. Fox che deve risolverlo e lo risolverà perché poi capiremo che ci sono mille intrighi tutto è tutto collegato perché c'era una signora che aveva una figlia che in realtà stava insieme a questo serial killer che è morto e è diventato un fantasma ed è lui quello che ammazza tu. Sì, c'è questo misto true crime a infestazioni e quindi sì. Brava. Hai visto? Sono figlio di te. Grazie. Complimenti. Quindi ti è piaciuto comunque il commentino? Sì, allora si sente il vibe anni 90 quindi è stato bello. Ormai siamo sempre lì. Neanche a farlo apposta. Infatti. Quindi c'è quel mood nostalgico però mi è piaciuto soprattutto il vibe perché non so questa pioggia poi c'è ci sono tutte delle scene dentro la casa della signora no? Che sono molto suggestive cioè è proprio una di quelle vecchie case un po' stile vittoriano americano un po' un po' riarredata così che fa subito una piantagione di cotone tipo no? Sì però molto cupa cioè che fa subito casa delle streghe casa infestata proprio se vi immaginate non lo so la casa della famiglia Adams cioè quello sì è vero e quindi mi ha dato un sacco il mood no? Sì esatto è molto riconoscibile e poi mi è piaciuto perché alterna moltissimo i toni cioè ci sono spesso succedono delle cose anche un po' grafiche se vogliamo cioè un po' horror cioè sempre molto molto chill però un po' horror e poi dei momenti totalmente demenziali ma fortemente demenziali cioè il fantasma che casca e allora fa tutte le cose un po' da cartone animato cioè allora c'era questa cosa da dire che ne avevamo parlato anche nella parte prima cento anni fa sul fatto che questo film fa tanto utilizzo di CGI e quindi cioè però non erano pronti perché lo vedi che è uscito tipo subito dopo Jurassic Park e quindi tutti hanno detto no no dobbiamo investire su questa nuova incredibile tecnologia però allora a me piace perché comunque viene usata cioè bene nel senso il motivo per cui viene usata è buono l'esecuzione è quello che è ma per mancanza di mezzi penso perché appunto non avevano il budget di Spielberg non avevano preparazione eccetera però si vede che CGI però ha un suo mood come dicevi tu esatto cioè mi sa non so come dire la percepisci come una CGI un po' un po' meh ma che ci sta nel contesto perché fa ridere non so come spiegarlo no perché comunque non si prende sul set cioè i fantasmi si allungano come cartoni animati con pure i rumori boing tutto quanto il fantasma che non riesce a passare la porta perché non è bravo a passare attraverso cioè tutte queste cose qua sì e poi allora non so se iniziare prima dalle cose che mi avevi detto di trovare vai vai ma sì dai partiamo da quello allora la prima cosa era Elvis e l'ho trovata c'è una scena in cui sta succedendo un casino appunto con la casa infestata del tizio che chiede aiuto a Michael J. Fox che poi viene ammattato e ad un certo punto totalmente a caso cioè vi giuro c'è questa statuetta di Elvis che fluttua per fare paura no context statuetta di Elvis che fluttua così poi Full Metal Jacket praticamente c'è questo cimitero dove loro ogni tanto vanno che ovviamente essendo un cimitero è pieno di fantasmi sì ci vanno scusa lo dico io perché non volevo interromperti scusa ci vanno perché lui lascia il biglietto da visita del suo lavoro di disinfestazione alla gente che è appena morta ai parenti dei defunti sì lui veramente con il tatto di un businessman che la serie ok state piangendo i vostri i vostri cari ma ecco il mio biglietto da visita esatto e niente Full Metal Jacket perché scusa? perché appunto c'è uno dei fantasmi che non so se sia lo stesso attore tra l'altro è proprio lui è lui ecco infatti mi sembrava troppo simile che fa cioè che fa il personaggio di Full Metal Jacket letteralmente il sergente maggiore e urla le persone è tipo il guardiano nel cimitero mette i fantasmi in riga spara ecco una delle mie logiche di cartone animato di questo film preferite sono il fatto che le pistole fantasma fanno male solo ai fantasmi le persone e viceversa e quindi ci sono queste robe in cui lui a un certo punto prende in mano un fucile a pompa fantasma che chissà non lo sappiamo però fa malissimo e poi avere 29 anni è stato divertente me lo sono ricordato adesso perché è il tipo di no dimmi non mi ricordo sì sì no è il tipo è sempre il solito tipo di cui stiamo parlando cioè quello che ha soldato Michael J. Fox che poi muore lui c'è questa scena dove dice ma io ho solo 29 anni e in realtà ne dimostra forse 10 in più sì tipo i 29 anni dagli anni 90 esatto che comunque eri una persona adulta matura responsabile questo poi l'avevo segnato perché è topico nel senso che io fra 23 giorni compio 30 anni quindi c'è questo com'è avere 29 anni non lo so chiediamolo beh il tizio è morto a 29 anni quindi con un po' di fortuna no dai ok che è Summerwin però non vogliamo essere così horror spooky spooky però sì divertente cioè è sempre bello vedere bello tra virgolette come siano diverse le generazioni cioè avevo visto anche una un'immagine poco tempo fa su forse twitter della serie Seinfeld Seinfeld si dice così Seinfeld non lo so vabbè quella serie americana famosissima Seinfeld ecco dove c'erano appunto i protagonisti che avevano più o meno dai 25 ai 35 no tutti stempiati tutti io ho detto con la pelle rovinata sembravano tutti molto più grandi e ero tipo wow cioè non perché sia un male invecchiare anzi che bello cioè vuol dire che sei vivo cioè gran cosa qualche puttana cioè nel senso non diamo per scontato invecchiare è una cosa bellissima però mi fa strano pensare che appunto i tempi siano così tanto cambiati che appunto avere 30 anni oggi probabilmente era come averne non lo so 20 prima forse anche meno 15 e mezzo 15 e mezzo è la chinsignera dell'età adulta pazzesco sì 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 è divertente da un lato dall'altro ti fa riflettere sì però riguardando il film per il podcast ho detto ma io non voglio morire ho solo 29 anni poi vedi questo che è un uomo finito un uomo di mezza età con la cannottiera che fa palestra in casa sposato da 10 anni praticamente ho detto ok che bello wow quanto tempo aveva era una volta quindi vabbè questo momento un attimo questo momento profondo e poi qua invece casco sull'ultimo sull'ultima cosa che mi ha dato da trovare perché era corpetto di ferro che that's non ho capito a un certo punto ah perché non è ancora parlato del personaggio più extra di tutto il film ah ok riguardava lui sì perché ah sì spieghiamolo allora ad un certo punto questa questione dei dei morti in questa cittadina diventa talmente assurda che arriva un agente dell'fbi che deve indagare e questo agente dell'fbi poverino è veramente non lo so una persona mi ha fatto molta pena perché è proprio devastato dalla vita lui ha dovuto affrontare mille cose perché ha fatto un sacco di di missioni sotto copertura quindi ha visto le peggio cose di questo mondo e quindi è molto disturbato sì ma tutte missioni sotto copertura tutte insette quindi la famiglia Manson esatto tutte cose tremende cioè proprio tremende lui ha visto veramente lo schifo veramente un po' soggiogato dalla vita sì 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 è proprio a tutte queste cose a parte che fa fatica pieno di tic sì è da pieno di tic ha tutte cose tipo non posso toccare questo devo fare quest'altro what c'ha pure le morroidi poverino sì cioè di tutto di tutto però paradossalmente è uno dei personaggi seppure inquietante forse più divertente del film perché è talmente ma si ma fa spaccare macchietta cioè è proprio adesso per descrivere la parodia di se stesso immaginate se in una serie come Stranger Things il vibe più o meno è questo magari un po' più leggero però così arrivasse un attore che mette insieme tutte le peggiori caratteristiche di Jim Carrey Nicolas Cage e le facesse esplodere in un vulcano di recitazione incredibile perché lui è un altro film è un altro livello cioè è così accurato tra l'altro Jim Carrey è Nicolas Cage ci ho pensato molto wow non mi ricordo il nome dell'attore magari dopo lo cerco però però è pazzesco lui è incredibile sì perché boh è proprio da un'altra parte e tutti la notano questa cosa tutti chiunque che abbia a che fare con lui a un certo punto dove di che c'è tipo pieno basta comunque sì e qui è lui che ha il corpetto di ferro sì anche lì in uno dei mille momenti a caso che lui ha e lui ha solo momenti a caso senza motivo ha paura che il protagonista ammanettato alla scrivania durante l'interrogatorio gli spari e si apre la giacca e c'ha un corpetto di ferro ha detto ah io non posso Monica quindi what questa cosa non si ripresenta più in nessun momento del film non ha conseguenze come tutto quello che fa questo veramente è un uragano che arriva dentro il film è incredibile e distrugge tutto no non ci avevo fatto caso a questa cosa effettivamente però sì lui è un personaggio pazzesco altra cosa che mi sono segnata che fa ridere ma anche riflettere come sempre è che mi sono proprio scritta filtro blu di Twilight esatto vero perché questo film ha il filtro blu di Twilight è proprio girato con il filtro blu e non importa che questo film sia uscito prima è comunque il filtro blu di Twilight assolutamente ok ma anche la cittadina che piove sempre tutto qua potrebbero benissimo essere vicine Forks no come si chiama Phoenix 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 è dove abita Bella prima forse sospesi nel tempo gemellaggio gemellaggio avranno squadre rivali delle scuole chi lo sa può essere muoge lo stesso numero di persone visto i vampiri quindi chissà che non fosse chi può dirlo parliamo sempre di Twilight comunque Twilight e Taylor Swift sono gli unici argomenti cioè vabbè parlo solo di questo io nella vita in qualche modo non si scappa no però me l'ero segnato proprio legato al discorso che facevamo super all'inizio ovvero del mood del film perché comunque il filtro blu contribuisce a dare questo aspetto un po' un po' un po' un po' fa freddo però comunque c'è qualcosa di strano cioè esatto qualcosa che non va poi altra cosa che forse non mi avevi detto all'inizio ma è prodotto da Robert Zemeckis questo film prodotto da Robert Zemeckis e diretto da Peter Jackson esatto non l'avevo detto che era prodotto da Robert Zemeckis ma ci sta era nella sua fase experimentale e quindi è molto figo cioè si vede secondo me ma si vede anche che è Peter Jackson perché c'è un sacco di allora diciamo che il film parte con zero pretese di su suspense c'è praticamente un omicidio di un fantasma violentissimo con i lampi i tuoni i fucili così e poi ti spiego cosa è successo quindi questo apprezzo sempre poi i movimenti di macchina schiaffo tutta la scena del manicomio è vero ci sono queste scene dove lui il protagonista che appunto può vedere un po' le visioni dei morti e tutto va in questo vecchio manicomio e ci sono queste scene dove lui ricorda com'era questo posto negli anni 50 adesso mi ricordo così e vedi proprio che si volta da una parte la telecamera si sposta la stanza in un modo poi torna indietro in un altro c'è tutto tutti effetti speciali fatti in camera però senza quella parte è molto bella mi è piaciuta tanto perché appunto c'è proprio il personaggio che fa avanti e indietro tra il presente e questi flashback che però sono tipo delle visioni non so bene come spiegarlo infatti sono quello che dicevi tu sono quelle parti lì che sono super pesanti in realtà per un film di questo tipo sì madonna ma poi anche perché i personaggi dei flashback sono stra inquietanti cioè letteralmente questo serial killer che fa delle cose molto brutte anche quell'attore lì sembra questo ghigno e gli occhi mamma fa paurissima bellissimo però sì tanto tanto piaciuto beh sono felice di sia piaciuto perché avevo selezionato per un palato fine come il tuo grazie grazie quindi tocca a me oh sì tesoro caro che cosa ho visto io can't wait can't wait perché questo film io lo amo io ho visto practical magic detto anche amore incantesimi ma non ci piace practical magic è meglio ma molto meglio sì portolo subito dicendo che mi è piaciuto un botto che è bello sono felice non pensavo così tanto e invece è molto 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 bello ma di cosa parla practical magic ci dica allora il film si apre su una scena di impiccagione questo è già un punto in più per me perché richiama un altro capolavoro del cinema che è piratia dei carabbi 3 per me che inizia sempre con un impiccagione vedi i film che iniziano così già sai che esatto ma fondamentalmente la premessa è c'è questa tipa che era una strega e si era innamorata mi sembra e allora adesso ai 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 no no non mi ricordo precisamente però lei per via di questa cosa dell'impiccagione no no quello lo so però cioè perché era stata tradita da quello che amava praticamente esatto una cosa del genere questa tizia che viene tradita dall'uomo che ama e viene impiccata perché è una strega in punto di morte fa lancia questa maledizione per le generazioni della sua famiglia non troveranno mai l'amore o se lo troveranno questo crepa esatto in poco tempo e e poi lei vola via perché è una strega tutti ah è una strega flash forward da centomila anni dopo le due sorelline di cui non ricordo il nome però sono Sandra Bullock e Nicole Kidman perdono i genitori perché lei si è innamorata del padre e quindi la maledizione di famiglia continua così e vengono adottate dalle zie che sono adesso penso questo questo film il libro da cui è tratto venga prima di Sabrina Vita la strega però le due sorelle penso di sì le due sorelle zie streghe sono molto simili è vero Zelda e Ilda Ilda e Zelda Ilda e Zelda e vengono adottate e viene insegnata la magia e vivono in questa cittadina poi crescono in modo diverso cioè Sandra Bullock è quella tutta per venino cioè se non fosse per il fatto stregoneria casa è chiesa proprio quindi casa è satana comunque no è diverso un po' diverso vabbè poi ti spiego e invece Nicole Kidman che è la bad girl con le borchie il tatuaggio di la farfalla sul petto così però si vogliono un sacco bene fatto sta che il personaggio di Sandra Bullock quando era piccolo ha tipo manifesting il suo il suo uomo ideale cioè ha recitato una una come si dice una fattura uno spell sì un incantesimo dove esatto un incantesimo mi vengono le parole incantesimo dove descrive il suo uomo ideale e ha tutte queste caratteristiche impossibili cioè deve essere bello dolce sensibile deve saper fare i pancake deve avere un occhio di un colore diverso dall'altro ma non solo fare i pancake deve saperli esatto lanciare in aria e riprendere così e gli chiedono ma zia cioè è un po' troppo non esiste un uomo così esatto così non mi innamoro e non muore nessuno e non sarò mai infelice dieci anni dopo lei si innamora di quello ci fa due bambine o due bambini o un maschera femmine due bambine due femmine è molto felice e questo tizio muore ovviamente perché la maledizione di famiglia va avanti e succedono cose non so come non voglio fare la sinossi no no certo diciamo semplicemente che il film è molto incentrato sul rapporto tra sorelle quindi tra Sandra Bullo che è Nicole Kidman che se non sbaglio si chiamano Sally e Gillian tutto gira intorno al rapporto tra loro due il fatto che anche abbiano questo modo diverso di vedere le cose cioè Gillian è quella più scatenata che fa le cose un po' più pazze e Sally invece quella più tranquilla che cerca di sistemare i casini che fa Gillian sì ma anche col fatto che poi c'è questo appunto momento di attrito perché questo qua di cui si era innamorata e che muore in realtà erano le zie che avevano fatto un incantesimo d'amore su di lei quindi lei si arrabbia perché io l'ho anche se era finto io l'amavo davvero e bla 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 e succedono cose molto bello film vedetelo tanto lo spoilereremo tutto nel corso dei prossimi minuti però le cose che mi hai detto di trovare vai vediamo allora prima era Rizzo di Gris perché una delle zie è appunto il personaggio di Rizzo di Gris ci ho messo un po' a notarlo ma poi ho cominciato a vacillare perché hai detto esorcista e effettivamente tutte fanno un esorcismo alla fine del film poi panna montata perché per fare questo esorcismo disegnano un pentacolo con la panna montata che è geniale adesso ho capito la tua ossessione per in margarita anche se non ne beviamo però questo film ha fatto venire voglia di margarita perché era come si chiamava midnight margaritas midnight margaritas per festeggiare cose e poi qua cado perché hai detto edward money di forbice che sospetto sia quando lei taglia la siepe no in realtà era molto più stupito di così perché l'altra zia è la mamma nel film edward money di forbice l'attrice ah madonna no è che è molto acchittata entrambe sono molto acchittate no rizzo la vedevo perché la faccia me la ricordo la mamma di armani di forbice no però vabbè e poi è un immancabile edward callen che la mia teoria è che fosse il fidanzato pazzo di nicole kidman quando resuscita non lo so no la tua teoria è corretta ma te l'ho messo perché c'è proprio un istante che è una cosa che dura tre secondi ma ogni volta mi fa ridere dove c'è nicole che sta descrivendo questo ragazzo e dice sembra che sia nato duecentomiglia di anni fa è un po' così è un po' di un'altra un'altra epoca non mi era e quindi non mi ero fatto il caso è subito un po' edward che lui viene effettivamente da un'altra epoca edward cattivo però sì molto cattivo e quindi questo era practical magic allora devi iniziare e poi no ti sei scordato l'ultima cosa che ti avevo detto io non te la dico ma voglio che la trovi e l'hai trovata perché me l'hai detto nell'audio ah sì è vero è vero perché chiudiamo un cerchio importantissimo praticamente una delle colleghe di Sandra Bullock è la grandissima character actor di Margo Martindale ovvero la nonna di Anna Montana nel film Anna Montana dei movie che non è ambientato in Montana quindi questa l'ho trovata senza che me lo dicesse sono stato bravo complimenti Jacopo bravissimo bravissimo e qua davvero chiudiamo il cerchio chiudiamo il cerchio perché ultimo episodio ci ricolleghiamo al primo proprio abbiamo fatto tutto voglio partire da quello che mi è piaciuto di più di questo film vai voglio sapere tutto allora il tono questo film ha cinque toni diversi praticamente due non li identifico neanche perché sono momento pazzerello momento mi dai margaritas appunto quella roba lì poi inizia come un film della Lifetime che per chi non lo sapesse è quel canale americano che fa vedere solo commedie romantiche o drammoni passionali con queste musiche sviolinate ralenti fotografia super patinata la gente che se ama se bacia se cerca se piangere tutte quelle cose lì e poi c'è quello praticamente horror dove la morte gli spettri le streghe satana e tutte queste cose fino ad arrivare al mio mood preferito che è quello d'ario argento perché ci sono dei momenti in cui la casa semplicemente è illuminata esattamente come su speed di Dario Argento che per chi non l'avesse visto ha una fotografia che potrei descrivere solo come semaforica semaforica ovvero che sono luci gialle sparate luci verdi sparate luci rosse sparate è uguale la casa delle delle streghe è così se guardi dentro quando fanno le magie proprio la fotografia cioè non è un difetto non sto criticando però non c'è continuità fra le fotografie ed è bellissima sta cosa perché proprio ti dà il cambio di tono del film per me l'altra cosa che mi è piaciuta allora adesso non saprei farti un'analisi del film super articolata sui temi e tutto però la cosa che mi ha fatto super ridere in senso buono è che il fatto che loro siano streghe intanto non è un segreto cioè in città tutti sanno ah quella è la famiglia di streghe ma non lo vivono come cioè si hanno paura di loro ma è più fastidio cioè cazzo queste sono streghe che palle non posso fare questo e questo cioè il quartiere loro è tipo il fatto che siano streghe è l'equivalente di io che ho un vicino che mette la musica alta capito cioè mi dà fastidio ah quelle sono le streghe stanno facendo il rituale che palle e quindi è super leggera anche la magia a volte è super intricata con incantesimi ingredienti magici e tutto altre volte semplicemente una bambina che indica un altro e fa morbillo e a lui viene il morbillo così allora se vuoi su questo posso aprire una parentesi apri la pure volendo interessante perché Practical Magic è uno dei pochi film che è effettivamente molto aderente a quella che è la magia chiamata witchcraft reale ok cioè nel mondo ci sono persone che praticano ancora quella pagana sì sì allora attualmente si è tutta mischiata tra wick cose eccetera però c'è tutta una insomma una cultura di questo tipo di cose tant'è che appunto per realizzare il film hanno proprio chiamato una strega una strega che pratica witchcraft questa tizia ad un certo punto ha chiesto più soldi perché voleva più soldi e loro hanno detto ma guarda no e lei ha detto ok allora vi maledico tutti loro si sono cagati addosso e hanno detto ok va bene ti diamo i soldi tecnicamente non è estorsione no 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 però è appunto proprio per il motivo per questo motivo molte cose sono molto aderenti a quella che è la cultura insomma delle streghe del witchcraft eccetera infatti se non sbaglio proprio il personaggio di Sandra Bullock ad un certo punto dice io non faccio cose con il diavolo ma creo non lo so le creme uso le erbe per fare le cose ok e questo è appunto proprio base diciamo della del craft non so bene come spiegarlo in modo comprensibile però appunto è tutta una una questione di utilizzare elementi anche della natura per fare questo tipo di cose questo tipo di magia ed è molto è molto carina questa roba qua e la trovo interessante da un certo punto di vista perché di solito i film con le streghe sono un po' tipo ok facciamo le magie le cose qua ci sono anche le cose un po' più grandi però è più proprio un ok metto lo zucchero nel caffè lo giro in senso orario così la mia giornata va bene tutte queste cose sì è tipo accessibile esatto poi alla fine del film hanno bisogno di fare un esorcismo e chiamano tutte le donne della città praticamente che si stavano pure sul cazzo ma alla fine nel momento del bisogno il buon vicinato arriva aiuta fanno l'esorcismo insieme è molto carina questa cosa no sì tutti questi piccoli dettagli anche a un certo punto c'è lei che gira il cucchiaio senza toccarlo per il tè tipo e le vicine la guardano le fanno un'occhiattaccia cioè non è che non è che si spaventano però questo è troppo stravagante questo è troppo stravagante quindi sì la la stregoneria vista come un quirk non so come sì come un qualcosa che comunque fa parte della tua vita come uno come uno con i piercing in un quartiere di vecchi esatto esatto sì 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 assolutamente ok è un film degli anni 90 quindi ci piace c'è quella patina che piace a noi però una cosa che io amo particolarmente di questo film sono tutte le scenografie e tutti i costumi scenografie sì i costumi non li ho notati particolarmente a parte le zie anche ok sì sì no perché sono molto allora c'è questo termine che viene usato per descrivere quel tipo di stile che si chiama Winscott che è proprio uno stile particolare che c'era negli anni 90 ed era utilizzato proprio per per le streghe le cose con le streghe tipo streghe la serie tv ok gli outfit il mood era più o meno quello anche Sabrina vita da strega era molto così ok ed era proprio come hai detto chi si chiama Winscott Winscott sì ok anche The Craft un altro film sempre sulle streghe di quel periodo lì quello l'ho visto mi sa e quindi mi piace tanto questa cosa che insomma che riprenda quell'immaginario lì poi anche a livello attoriale come sempre tutti sono tutti assurdi next level Nicole Kidman era proprio nella sua fase bad bitch comunque perché fan fatal perché in quegli anni ha fatto anche Batman Forever non so se ti ricordi dove fa lo psicologo sexy praticamente molto extra anche Batman Forever e quindi boh la vedi che non è tra le nuvole ma è tutta non so neanche come descriverlo è agitata in senso punk in senso punk sì è vero lei è molto forse è proprio un mix tra essere tra le nuvole un po' come in vita da strega l'altro film eh sì però in però però in modo sexy non so come dire in modo punk in modo punk proprio va bene poi vabbè il film a un certo punto si perde cioè a un certo punto Nicole Kidman sta con questo fidanzato un po' manesco violento tossico eccetera per sbaglio lo uccidono che a chi non è successo per sbaglio lo resuscitano anche doppio ups esatto devono fare l'esorcismo ma l'assassinio di questo porta a casa delle due sorelle questo poliziotto molto affascinante che guarda a caso a tutte le caratteristiche che Sandra Bullock aveva descritto nella sua incantesimo d'amore e qui è l'unica parte dove il film è un po' perso in generale perché il personaggio vabbè è uno sbirro intanto e quindi non lo so non mi interessa non lo so arriva è super buono sa fare tutto ma è anche super noioso piatto non mi piace lui cioè non lui proprio non mi divertiva poi buon per Sandra Bullock che era contenta che così e alla fine si mettono insieme ma lui dice le maledizioni funzionano solo se ci credi io non ci credo quindi dopo il scontato che lui non muoia non ho capito questa parte nel senso ecco questa è un'altra cosa l'amore vero trionfa non lo so no questa è un'altra cosa che si ricollega a quello che ti dicevo prima sul witchcraft cioè ok tutta questa cosa tutta questa cosa si basa sul le cose che fai quindi esempio metti lo zucchero nel caffè lo giri in un senso funziona se tu ci credi ok e tutto tutto sta nell'intenzione che metti in quello che fai ok quindi lei glielo spiega attraverso la stella cioè il suo distintivo ah sì gli dice tu dai valore a questo distintivo e quindi tu sai che che puoi essere coraggioso cose così perché perché ci credi quindi se tu fai non lo so appunto le cose dello zucchero nel caffè e ci credi funzionerà perché tu ci credi quindi anche le cose cattive effettivamente fanno paura se tu credi che fanno paura le famose profezie che si autoavverano esatto sì 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 è legato a quello sì non avevo fatto tutto questo giro di pensieri però l'avevo accettato nel senso le tofine ci sta soffettando sì 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 e niente guardandolo come dicevo prima mi è fatto impressione che abbiano un sacco di cose in comune sti film è vero tutti i fantasmi c'è un certo punto il ragazzo Nicole Kidman torna fuori come fantasma cattivo tutto pallido il fatto che facciano letteralmente un esorcismo a un certo punto perché lo fanno anche in sospesi nel tempo e degli anni 90 negli anni 90 figurati sì però e poi a livello di tono a volte si incrociano dai è vero questo è più whimsical l'altro è più slapstick ma nell'altro comunque scusa nella sospesione del tempo non l'hai menzionato e sono un po' affeso il trucco dei fantasmi comunque oddio per me era super fico sì era bello c'era tipo c'è questo qua che è morto da troppo tempo e quindi si smonta la mascella e cadono le ossa così però non è fatto al computer capito è tutto make up ed era super bello per me tra l'altro buffo che nel film dei streghe non ci sia satana e l'inferno mentre in sospesi nel tempo a un certo punto vediamo l'inferno che come lo descrivi l'inferno tremors esatto come altro descriverlo è un verme gigante che è la luce un verme delle sabbie questo però fatto al computer malissimo tra l'altro forse è la scena più cringe rispetto per la CGI forse sì forse sì perché proprio allora funziona anche quando uno muore arriva la luce dal cielo e devi andare verso la luce e se non ci vai rimani il fantasma sulla terra poi arriva la luce dal cielo lui che è buono ci va e poi il fantasma cattivo si attacca alla sua caviglia perché a quanto pare funziona così e dice ah no vengo anche in paradiso li ucciderò tutti anche da lassù solo che lui ovviamente essendo cattivo non può andare in paradiso e letteralmente si apre una voragine da cui esce questo vermone è solo un vermone con i denti sì che se li magna e se li porta all'inferno il protagonista di sospesione del tempo ha confermato l'esistenza dell'inferno ma non gliene frega un cazzo è tranquillo cioè va a letto sereno tanto vabbè io sono buono io sono buono che me vuoi fare bello però sì mi piace che comunque abbiamo scelto delle cose un po' collegate è tutto tutto collegato yay quindi è riuscita questa questo speciale summer wind eh ce lo diranno i ragazzi i ragazzi ce lo diranno speriamo durerà 200 ore questo episodio se no dici se va bene o se dobbiamo fare in due parti come sempre perché sappiamo che è caotico ma è uno speciale esatto c'è lo special quindi sì è caotico è giusto che sia così comunque abbiamo finito una stagione di zitte guarda abbiamo finito la prima stagione un applausino un applausino per noi grazie grazie bravi che bello bravo a me brava a te la prossima stagione io ho già scelto i film Vez io no ma ci arriverò serve una pausa perché io per registrare a questa temperatura devo chiudere la finestra e non ce la faccio cioè sto sudando come un cavallo sarà dura però ma ce la faremo ce la faremo però volevo tirare le somme cioè alla fine ho visto tanti bei film a parte uno per me aspetta che qua c'è un gatto è Gino ciao Gino dai fai il buono però anche se entri qui Gino mio cugino e dicevamo no dicevamo ah dicevamo a tirare le somme sì in senso è stato bello a me è piaciuto mi sono piaciuti quasi tutti i film vabbè però che è una collezione principessa scusate ne affaccio sono contento di averlo visto ma è stato tremendo solo per il podcast cioè non non mi costringerete mai più a vedere quel film neanche perché è brutto è perché vabbè non vi ho già parlato di questo esatto esatto no parliamo di cose belle tipo tutti quelli che abbiamo visto qual è ti piaciuto di più dei miei intendo beh Speed ah quindi siamo partiti col botto e poi in discesa no vabbè non in discesa però è difficile toppare Keanu Reeves se mi metti Keanu Reeves e Sandra Bullock è difficile poi andare oltre Speed è stato in assoluto il mio preferito però mi è piaciuto tantissimo anche gli uomini straordinari mi ha spaccato mi ha fatto troppo ridere è stato bello anche rivedere Coso e oddio mi viene full metal jacket adesso ma non c'entra un cazzo Tropic Thunder esatto Tropic Thunder perché non lo vedevo da una vita cioè non me lo ricordavo proprio ma no in generale sono contenta dei film che ho visto anch'io cose che effettivamente ecco la cosa che mi è piaciuta è che forse anzi forse senza forse vale anche per te cioè che sono proprio cose che io non avrei mai visto da sola cioè non so come dire non sapevo che esistevano quindi già questo era difficile però anche se tu mi avessi detto senza costringermi guarda questo film così cosa forse avrei paccato cioè non l'avrei visto vale lo stesso per me che è un po' il motivo di questo podcast cioè far soffrire gli amici e ampliare i propri orizzonti comunque a te è piaciuto di più il primo a me il mio preferito invece è stato questo proprio completamente speculare sì beh questa è una piccola bomba cioè possiamo dire practical magic questo è veramente una perla veramente bello questo mi è piaciuto molto vabbè Vita la strega l'avevo visto però il secondo per me è stato Angus che fa ridere cioè mamma mia è una di quelle commedie che fa cioè tutte le commedie dovevo far ridere ma questo proprio in particolare ce la fa perché appunto ci sono questi adolescenti disgustosi che fanno cose come giusto che sia ho super apprezzato poi vabbè Vita la strega non lo conoscevo ma sempre bello rivederlo perché non me lo ricordavo ci sta tutta la questione della finzione mi è piaciuto ma anche divertente in realtà devo dire anche il film di Anna Montana nonostante tutto ci sta cioè capisco perché possa essere iconico per qualcuno che seguiva Anna Montana tra l'altro mi fa ridere che appunto la gente che l'ha visto ce l'ha bene in testa questo weekend che ci siamo visti con dei nostri amici che parlavano del fatto che tutto il Tennessee sapesse chi è Anna Montana ma non rivela questo segreto per il concerto sì 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 era il Tennessee era il Tennessee ok sì non ci lo farò mai ricordiamo e quindi appunto non l'avrei mai visto da solo però ci sta tra l'altro proprio perché tutti conoscono Anna Montana The Movie è stato forse l'episodio più visto di tutto di tutta la prima stagione già maledetti dovrei restare Speed adesso anche Speed vorrei ascoltare Speed centomila volte allora però Speed Speed ha avuto la benedizione di mia madre perché mia madre mi ha scritto dicendomi anche io ho visto questo film e gli ho chiesto mamma cosa stai dicendo in che senso lei potrebbe averlo visto al cinema pensa esatto no però mi ha detto che l'aveva visto in tv hai già rotto la magia peccato però niente zitto e guarda è una stagione nove episodi che in realtà sono dieci perché due li abbiamo uniti sì bravi noi bravissimi spero vi siano piaciuti speriamo sì fateci sapere non so finire i podcast dateci anche dei consigli suggerimenti volendo feedback però come fanno perché se li vediamo tutti e due suggerimenti poi eh ma tanto non sai mai che cosa sceglie uno poi ok ok tanto io Jacopo me lo dimentico cioè li leggo per mi scordo non ti preoccupare mi preoccupo sì invece devi scordare devi scordare niente ma magari vorrei tanto va bene comunque grazie Giulia per avermi fatto vedere Practical Magic grazie Jacopo per avermi fatto vedere sospesi nel tempo e noi ci vediamo alla prossima dopo una pausa estiva meritata sì pausa estiva meritata e torneremo a bomba anche perché summer win e poi c'è Halloween quindi insomma in un modo o nell'altro la spooky season non finisce mai non finisce mai oh yeah bene ciao 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 ciao